e ciao ragazzi ciao ciao ragazzi e benvenuti in GQ&Friends GQ&Friends e che cosa facciamo oggi? Oggi facciamo una suonata e un sacco di video perché non faccio video ma non fai video praticamente prima di tutto ragazzi volevo ringraziare per i 2000 iscritti stiamo salendo veramente forte ammetto che sto facendo un po' di pubblicità però e che volevo dire volevo ringraziare tutti gli iscritti specialmente qui di là che seguono le lezioni di programmazione anche all'estero anche le lezioni in inglese sono state molto seguite e big thanks to all the strangers non italian that follow my programming lessons e niente ragazzi a questo punto anche perché cioè le lezioni di programmazione non è che interessa se è italiano se è inglese tanto tu devi guardare il programma quindi intanto c'ho la chitarra che fa casino mamma mia è uno schifo totale c'ho secondo me vediamo se riesco a mettere una penna guarda questa penna dietro al coso qua così da mettere un poco più verso il basso e perché non vorrei che però che si accapportasse all'improvviso ecco qua almeno si vede la chitarra cioè allora ragazzi dobbiamo accordare la chitarrina io vorrei fare praticamente faremo una canzone di mister mister quindi una canzone anni 80 come mio solito facciamo antes of the night che bellina proprio dobbiamo accordare la chitarra con il nostro ora ve lo faccio vedere così ho veduto il nostro guance vede il tavolo sopra il filo aspetta ve lo faccio vedere così questo è lo zoom vedi zoom 505 ma io con i pedali vado avanti e indietro posso fare degli effetti nuovi ne ho fatti pochi ho legge per il suo cosa in la chitarra il suo pitch è praticamente il nostro ufus praticamente che feci una volta feci l'effetto quello la di duran duran sulla chitarra quello la che faceva comunque diciamo che a voi secondo me non bene frega niente quindi andiamo avanti ma sembra la minore andiamo su a3 cioè c3 che è quello più potente e vediamo se mi ricordo un po' la canzone l'ho fatta un poco ieri guarda pareva che non si faceva il nudo a filo comunque poi sto incominciando a usare un po' sto coso il volume e anche questa roba qui che dovrebbe essere il tono ma non so sicuro poi il look fortini mi farà che ne so proviamo insieme a kitchen full tranne non so suonare quindi vediamo un po' come viene e si prova vediamo un po' che cazzo di scioglio questa merda e 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 bellina e 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 la penna che se no non mi vedete la canzone è simpatica cioè la canzone è bella sono io che sono una chiavica alla ritarla però comunque ragazzi allora questo era ringrazio ancora tutti ma sono una sfima ragazzi ho pulito il giardino oggi ma ho fatto un chest allora vi saluto sempre con il nuovo modo di salutare cioè palle e peli a tutti quanti e noi ci vediamo al prossimo video con jacques and friends 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 con jacques and friends iscrivetevi condividete facete qualcosa cioè commentate e basta ciao